Buongiorno, shalom, boh kertof, salam aleikum. Volevo rispondere a questo commento con questa lettera dell'alfabeto ebraico, ma non quello moderno, quello biblico, con la lettera Zain. Zain, sapete che l'alfabeto ebraico è anche alfa numerico, quindi ha un valore numerico. Zain rappresenta, diciamo, la spada, l'arma. Ma cosa intendo io per arma? La vera arma, a mio parere, è l'arma dell'intelletto. Poi sappiamo anche che ha un valore numerico 7 e quindi rappresenta il settimo giorno, shabbat, fermarsi, riflettere, perché quando tu usi l'intelletto ti fermi e rifletti. Inoltre, come si fa a riflettere? Bisogna trovare l'equilibrio tra il maschile e il femminile che è dentro di noi, ma anche usando l'amore, no? L'amore è il vero equilibrio tra le persone, perché quando un uomo e una donna stanno insieme per andare d'accordo, usano amore, comprensione, compassione e soprattutto amore. E l'amore è l'equilibrio, l'amore è la metà tra i miei desideri e i tuoi, no? Quindi fermiamoci, cerchiamo di capire, riposiamoci, perché poi la lettera successiva è l'otto. L'otto sappiamo che è descritto come l'infinito. Poi un'altra cosa che stavo leggendo è che noi dobbiamo fare molta attenzione a quello che mangiamo con la bocca, non è solo quello che mangiamo, quindi che butta dentro, ma è quello che butta fuori. Quindi è uno strumento che entra e che esce. Quindi possiamo nutrirci di cose sbagliate, ma anche nutrire gli altri, cioè buttando fuori cose brutte, dicendo cose brutte. Lo so che è un discorso un po' astruso, però io quando intendo forza, secondo me è trovare l'equilibrio tra il maschile, femminile e interiore, trovare l'equilibrio tra le altre persone, quindi le mie esigenze e le tue esigenze e come lo si trova? Con l'amore, con la compassione, con la comprensione, fermandosi, fermandosi, fermandosi. Quindi il numero 7, Shabbat, ci si ferma e io chiedo a tutti quelli che stanno usando le armi di fermarsi, perché se non vi fermate non usate l'intelletto, soprattutto non capite cosa sta succedendo e per risolvere questa questione dovete solo usare comprensione, compassione e amore. L'amore, la soluzione è l'amore. Fermatevi e usate il vostro cuore, ma tutti dal primo all'ultimo, fermatevi.